C'era una squadra che veniva qui con la voglia di fare calcio e quindi con la voglia di provare a vincere anche in una partita e quindi noi dobbiamo prepararci anche a situazioni diverse. Da questo punto di vista hai fatto qualche prova diversa, non voglio cominciare quale. No, credo che confermeremo questo partito. Un attica mezzo, nel senso con l'inserimento di Vannucchi finché non sarà al 100% della condizione noi cercheremo di utilizzarlo dietro le due punte. Poi quando sarà anche lì al 100% vedremo se possiamo trovare delle altre collocazioni. Per quanto riguarda i giocatori che non stavano bene in settimana, se non te l'hanno già chiesto. No, noi siamo un attimo. Non ho già trovato. Più tanto nelle condizioni di... ecco, sì. Si è rinserito un gruppo, Michele Boldrini, che oggi ha fatto il primo allenamento con noi, quindi domenica lo portiamo via. Scantambullo è con noi, non c'è Lazzaro, non c'è Lollo, non c'è D'Aquano. Top al marco la primavera e Cisterni... E Cisterni non è convocato. Ok. Quindi siamo 21 disponibili. Ecco, parlavi di avversario difficile da affrontare perché probabilmente verrà coperto, verrà più coperto nel Verona e ci sarà almeno spazio. Sicuramente, verrà coperto, verrà a lottare su tutti i palloni, verrà a infartidirci, per modo di dire, nel senso verrà a farci la partita addosso. E quindi noi dovremo essere bravi a capire quando bisognerà fare possesso e quando bisognerà fare legno, calciano in balsi. Ecco, mister, come la trova? Ora, un po' che è qui, rispetto alla gara della prima settimana, come la trova a livello generale la condizione fisica della squadra? Io la trovo, se non ottima.